Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. La presa celebra la memoria di Santa Marta di Betania, incidente mortale sull'autostrada 25, purtroppo con la cronaca, nei pressi del casello di Avezzano. Un operaio è stato investito da un camion mentre lavorava in un cantiere inutile. I tentativi del personale del 118 subito a corso sul luogo dell'incidente, giunti insieme gli uomini del 118 alla polizia stradale di Avezzano, che sta indagando sul fatto che si tratta di un operaio di 32 anni, residente a Sora, in provincia di Frosinone, che è la vittima dell'incidente che è avvenuto ieri nel primo pomeriggio sull'autostrada 24-25 nel tratto Travezzano e Magliano dei Marsi. Via libera al rifinanziamento dell'intervento 14, denominato Area di crisi complessa, competenze per il lavoro, previsto dal piano operativo FSE 2018-2020 e destinato alle imprese inserite nell'area di crisi complessa Val Tronto-Val Vibrata. Lo rende noto l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Pietro Quaresimane, dopo la pubblicazione del nuovo avviso. Nella rimodulazione dei fondi europei della programmazione 2014-2020, ha detto Quaresimane, abbiamo deciso di intervenire con provvedimenti in favore dell'area di crisi complessa, mettendo a disposizione risorse in grado di finanziare la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che sono stati espulsi dall'attività produttiva, creando in questo modo le condizioni per una loro ricollocazione. I percorsi formativi che verranno finanziati dovranno naturalmente tener conto della domanda che arriva dalle aziende collocate nell'area della Val Vibrata. Nello specifico, l'intervento prevede la possibilità da parte degli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo di organizzare e gestire i corsi di formazione e riqualificazione professionale in favore di disoccupati senza limiti di età anche per settori di indennità residenti in uno dei comuni dell'area di crisi industriale complessa o licenziati per riduzione di personale da un'unità produttiva che si trova nell'area. Si tratta, ha concluso l'assessore, del secondo provvedimento in favore dell'area di crisi complessa all'indomani del rinnovo della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Regione Marche. In base alle relazioni chieste a ciascuna ASL recapitate ieri mattina in assessorato non risulta essere prevista alcuna riduzione o sospensione del servizio di continuità assistenziale, l'ex Guardia Medica, in nessuna zona della nostra Regione. Lo sottolinea l'assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Veri replicando le affermazioni del consigliere regionale di minoranza Sandro Mariani che aveva parlato di un mese di agosto in cui l'Abruzzo sarebbe stato vietato ammalarsi a causa della chiusura di molte sedi erogative. Come è mia abitudine, sottolinea l'Averi, ho scritto alle quattro aziende chiedendo conto dell'allarme lanciato dal rappresentante del centro-sinistra ricevendo però una secca smentita da tutte le direzioni sanitarie. L'ASL Avezzano sul Monal Aquila garantisce la copertura delle 21 sedi con 88 medici rimarcando come si tratti di una dotazione addirittura superiore alle previsioni sul rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionale e regionale di categoria. Dal 1 al 31 agosto è stato attivato anche il servizio assistenza ai turisti nei comuni di Ovindoli e Rocca di Mezzo. Anche l'ASL Lanciano Vasto Chieti conferma sedi e turnazioni già previste durante il resto dell'anno alle quali si aggiungono i posti medici estivi nelle principali località di vacanze e altre 5 ambulanze in servizio sul territorio in considerazione dell'aumento esponenziale di presenze dei turisti per far fronte alle eventuali richieste di intervento. L'ASL di Pescara prosegue regolarmente il servizio di continuità assistenziale anche nel periodo estivo mantenendo l'apertura standard di tutte le sedi aziendali, così come nell'arco dell'intero anno. Nei mesi di luglio-agosto sono operative anche le due sedi aggiuntive di Pescara e Montesilvano. Nell'ASL di Teramo tutte le 20 sedi di continuità assistenziale oltre a quelle del numero unico aziendale risultano coperte. Non solo un'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti ma anche un'opportunità per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi messi in campo dall'ASL per migliorare la sicurezza di operatori utenti. L'assessore alla salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, ha visitato ieri mattina il pronto soccorso del Policlinico di Chieti dove nei giorni scorsi un uomo ha dato in escandescenze sperrando un pungo al vetro della triage che solo fortunatamente non è andato in frantumi colpendo l'infermiera in servizio. Il direttore generale dell'ASL, Thomas Skael, il direttore sanitario Maria Di Sciascio e il responsabile aziendale della protezione e sicurezza Rocco Mangifesta hanno illustrato all'assessore gli interventi previsti. Le procedure amministrative sono già in corso e dovrebbero concludersi entro 90 giorni sul pronto soccorso di Chieti e Basto dove saranno installate nuove vetrate blindate antisfondamento e porte antieffrazione per garantire la separazione tra aree di attesa ed aree di cura. È stato inoltre implementato il servizio di vigilanza privato affidato alle guardie giurate che dovranno occuparsi del filtraggio degli accessi alle sole persone autorizzate. A Chieti sono presenti due unità mentre a Basto si è deciso che il potenziamento estivo che scatterà il primo agosto sarà mantenuto anche nei mesi successivi. Inoltre a Chieti è stato esteso a 12 ore l'orario di servizio del posto di polizia ma le forze dell'ordine garantiranno, come in tutti gli altri presidi dell'ASL il tempestivo intervento in qualunque momento in caso di necessità. L'Inps di Teramo, dopo l'emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provveduto in questi giorni a liquidare la cassa integrazione straordinaria e i dipendenti ormai in attesa di diversi mesi. Lo annuncia l'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale che successivamente all'incontro in regione con i rappresentanti della società Teclad e con le organizzazioni sindacali lo scorso 27 giugno aveva dato mandato all'ufficio competente di verificare con il Ministero del Lavoro e l'Istituto di Previdenza all'iter autorizzativo del decreto di concessione e a velocizzare le procedure di anticipazione ai lavoratori dell'integrazione salariale corre l'obbligo, dichiara Quaresimale, di ringraziare in modo particolare gli uffici del Ministero che il 3 luglio scorso ha autorizzato la cassa integrazione straordinaria e la successiva attività di collaborazione tra regione ed Inps che ha consentito in meno di un mese di assicurare l'anticipazione dell'integrazione salariale ai 45 lavoratori Teclad con il pagamento anche degli arretrati a decorrere dal mese di aprile Una parziale e tardiva apertura alle ragioni degli esercizi commerciali e artigianali di Corso Vittorio, pescare alle ragioni sollevate dai rappresentanti del mondo dell'impresa Il tutto mentre il mondo della politica cittadina dopo qualche parziale apertura si è ritirato in buon ordine lasciando sole le imprese a combattere la loro battaglia E' il giudizio espresso dai rappresentanti di CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti al termine dell'incontro che si è tenuto ieri al Comune di Pescara sulla programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Uno dei temi caldi del confronto di queste settimane insieme all'assetto di Viale Marconi che ha visto su fronti contrapposti la Giunta Masci e gli operatori economici Prendiamo atto della volontà di venire incontro, almeno in parte, alle nostre richieste prevedendo la suddivisione del cantiere in due tranches in modo da non arrivare alla totale chiusura della centralissima in pieno periodo di saldi come invece cociutamente sostenuto a lungo Una decisione che aveva visto la ferma opposizione degli esercenti delle attività la richiesta di rivedere il piano con l'adesione della gran parte delle forze politiche cittadine nelle nostre istanze Al vertice, convocato dall'assessore Mascia erano presenti anche i tecnici dell'assessorato, la polizia municipale e i rappresentanti della società di trasporti TUA Secondo quanto stabilito dunque, si procederà così dal 31 luglio al 20 agosto via gli interventi dal lato stazione fino a via Emilia poi dal 21 agosto al 10 settembre da via Emilia via Genova Per mesi la politica ha tergiversato di fronte a una scelta di buonsenso tra infiniti tavoli inconcludenti di concertazione e puntuali silenzi assordanti successivi dicono le associazioni dei commercianti Ci auguriamo, concludono che questo incontro inauguri un metodo nuovo ispirato alla volontà di ricercare soluzioni condivise Si svolgerà oggi a Pescara il meeting interregionale delle misericordie d'Abruzzo, Marche e Molise L'intervento ospitato nella sede della Fraternità della Misericordia di Strada delle Fornaci prenderà il via alle 16 e avrà per tema la solidarietà attraverso le opere di misericordia e il ruolo del volontariato nel sistema socio-sanitario italiano Ci saranno Domenico Gianni, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia Don Marco Pagnello, Direttore di Caritas Italiana Don Remo Chioritti, Correttore Spirituale delle Misericordie di Pescara L'Assessore all'Associazionismo Sociale e alle Politiche per la Disabilità del Comune di Pescara Nicoletta D'Inisio Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Volontario Storico della Misericordia Berardino Fiorilli Modererà l'evento il Governatore della Misericordia di Pescara, Cristina D'Angelo Consigliere di Presidenza della Confederazione Nazionale E torna con la sua quarta edizione dall'Alba al Tramonto L'Appuntamento di Musica e Cultura sui Colli di Pescara che evoca suggestioni uniche a contatto con la natura e l'arte evento che vedrà il suo culmine domenica 30 luglio per iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale con diversi momenti culturali che si svilupperanno lungo tutto l'arco della giornata Siamo al meteo, sull'Abruzzo condizioni generali di cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in giornata specie lungo la dorsale appenninica in attenuazione in serata e in nottata nella giornata di domani prevalenza di tempo stabile soleggiato specie al mattino nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio possibili annuvolamenti occasionalmente associati a rovesci sparsi più probabili a ridosso dei rilievi temperature in aumento specie nei valori massimi venti deboli, mare generalmente poco mosso con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo grazie per averci seguito a risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica